Amici della Voce del Diavolo e del canale YouTube Milan & Lo, ben ritrovati dopo una settimana molto, molto, molto intensa, cominciata con la partita in casa contro la Lazio, partita che abbiamo giocato veramente bene, abbiamo dominato, il nostro ritorno in Champions all'Anfield Road contro il Liverpool, una squadra fortissima, prima nel campionato della Premier League, con un allenatore fortissimo, con giocatori fortissimi, direi senza punti deboli, stadio pieno, pienissimo, nostri giocatori non abituati a queste competizioni, a quel clima nello stadio, a tutto, comunque un Milan che ha giocato fino all'ultimo ha perso, si ha perso, ma ha anche rischiato di non perdere, ho detto a di vincere, eravamo 2-1 e ci hanno annullato un gol, giustamente annullato, però per pochi centimetri, un gol in fuorigioco. Bene, dopo queste due partite è arrivata la volta della Juventus, quella che una volta era considerata la partita più difficile dell'anno, giocare fuori casa, giocare all'Allianz Stadium, giocare con la Juventus, normalmente campione d'Italia. Ecco, questa volta la differenza è che abbiamo pareggiato e siamo qua a chiederci, ma abbiamo perso due punti o ne abbiamo guadagnato uno? È una domanda a cui ovviamente è pleonastica, non si può dare una risposta. Io personalmente sono contento del pareggio, ma ho una punta di amarezza. La punta di amarezza che è cominciata sabato, la punta di amarezza è cominciata sabato, quando ho cominciato a leggere la lista degli assenti. Noi abbiamo una lista incredibile di assenti, spero che il Milan, spero che la società, spero che Pioli riesca a trovare un rimedio perché numericamente abbiamo troppi, troppi assenti. Quindi quando tu cominci a vedere che il Milan ha tre centravanti di ruolo, 3. Ibra, Giroud, Pellegri. Nessuno disponibile, tutti per motivazioni valide. Ibra perché ha fatto l'operazione e poi ha forzato per entrare, quindi c'è l'infiammazione. Giroud perché ha avuto il Covid, quindi è rimasto fermo una settimana, poi ha ripreso gli allenamenti, poi ha fatto 20 minuti all'Anfield Road e quindi facendo questi 20 minuti non allenato gli è venuta la lombalgia. Pellegri perché Pellegri, pur essendo giovane, ha sempre dei problemi, quindi stanno cercando di ricostruirlo da punto di vista fisico. Insomma, resti fuori. Calabria. Calabria che non dovrebbe avere problemi, però è riduce da un intervento. L'anno scorso, a fine campionato l'anno scorso, poi ha giocato con la Lazio, poi ha giocato contro il Liverpool, probabilmente con il Liverpool ha giocato più intensamente di quanto potesse fare e infatti si è rotto e sarà fuori per un po'. Poi abbiamo Benna Serra, ancora un po' così e per fortuna che c'è Tonari che è in grandissima forma. Poi abbiamo altri, adesso non mi ricordo neanche più tutti gli infortunati di chi abbiamo, ma avevamo il Magnan che aveva un problema alla mano, sempre è successo a Liverpool, tutti lì a pregare che non dovesse giocare Tartarusano, anche perché Prizzari, il terzo portiere, è infortunato. Insomma, c'era già un po' di amarezza prima della partita, perché è bello andare a giocare all'Allianz Stadium, è bello giocarsela alla pari quando tu parti con tutte queste defezioni, sapendo di avere pochi cambi anche a disposizione, ora che se ne hanno cinque a disposizione, sappiamo quanto possa essere importante a partita in corso cambiare completamente, mettere forze fresche. Comunque siamo andati, siamo partiti così così e abbiamo preso il gol subito al quarto minuto. Gravissimo, gravissimo errore di ingenuità di Tui Hernandez, che non è ancora assolutamente in forma. Gravissimo errore, poi Salamaker non è stato particolarmente intelligente nell'interdizione, non ha capito cosa sarebbe successo, è partito in ritardo, dopodiché quindi palla a Morata, che è stato effettivamente molto bravo, ha fatto una corsa di 40 metri anche di più e ha fatto un bel scavetto alla fine per Magnan, che obiettivamente non poteva assolutamente fare alcunché. Quindi la partenza insalitissima, ma il Milan è una squadra di cuore, il Milan è una squadra che gioca, piano piano si è ricompattato e la Juventus ha mostrato, secondo me, tutta la sua debolezza, perché avendo la possibilità di giocare con un avversario indebolito dalle assenze, sotto di 1-0 in quel modo, avrebbe dovuto dominare, in altri momenti avrebbe dominato, invece non l'ha fatto. Anzi, il grande Allegri, il fenomeno Allegri, il santone Allegri, il gabbione Allegri, ha giocato la sua bella partita in contropiede. È stato lì, tutto dietro la linea della palla, partendo in contropiede, sperando in qualche altra cosa. Cosa che non c'è stata, non c'è stata e si è arrivati, quindi, così, in una partita un po' bruttina, a un certo punto, alla fine del primo tempo. All'inizio del secondo tempo è stato, invece, tutto un altro Milan. Un Milan che ha preso nettamente in mano il gioco, che ha avuto diverse occasioni da gol, che ha avuto tutti i suoi interpreti di giocare al meglio. Nel frattempo il Milan si era anche riposizionato perché, secondo me, Pioli ha fatto un errore, poi si era stato costretto, non lo so, a far giocare Tomori a destra e Kier e Romagnoli in mezzo. Fatto sta che Kier si infortuna dopo mezz'ora e quindi torniamo al nostro modulo normale, mettendo Calulu a destra e Tomori in mezzo. Tomori in mezzo che rende molto, molto di più che sulla destra. Infatti, la palla a quel punto i vari Morata e i compagni non l'hanno più vista perché Tomori faceva un'ottima guardia. A quel punto, benissimo, il Milan è partito, ha avuto occasioni, certo, gli mancavano i centravanti, gli mancava il bomber, però ha giocato, ha tenuto il campo molto bene, fin quando ha trovato il gol, grazie a un corner battuto da uno che, se non il migliore, ieri comunque uno dei migliori e migliori di questo inizio del campionato, Sandro Tonali, un vero cuore rosso-nero che finalmente si sta facendo valere, sta mostrando la sua forza che l'anno scorso non abbiamo potuto vedere, testa di Rebic, testa di Rebic, gol imparabile. Errore della difesa, errore di posizionamento di Rabiot, ma anche uccellato è stato il grande Locatelli, Locatelli, il fenomeno, il rimpianto del Milan, giocatore da nazionale, giocatore qua che io dall'inizio che dico, se la Juventus, che adesso ha un centrocampo scarso, pensa che con Locatelli possa così migliorare il suo centrocampo, sbaglia. Secondo me Locatelli è un buon giocatore, potrebbe essere una buona riserva di una buona Juve. Se è il titolare di una Juve, vuol dire che è una Juve non di alto livello. Comunque, onore al Milan per questa partita. Il rammarico è per quell'ultima azione di Caluru, che è un'azione stupenda conclusa bene da Caluru con una parata di Cesni incredibile, non so se è di bravura, di fortuna, comunque lui era già per terra, ha parato questa palla, non si capisce come, io avevo già gridato gol, è lì che c'è il rammarico. E fino alla fine il Milan ha cercato di segnare e non ce l'ha fatta. Però usciamo bene dall'Allianzadion, usciamo con una autoconsapevolezza maggiore, usciamo anche non sconfitti, non dimentichiamoci, perché non ci sono stati errori arbitrali. Perché guarda caso, dicono, ah ma no, gli episodi non contano, contano. Se non ci sono errori arbitrali, il Milan, dall'Allianzadion, sono già due volte, che va ed esce tranquillamente, una volta avendo vinto e una volta avendo pareggiato. Gli errori arbitrali sono importanti, ieri avevamo paura per la conduzione di doveri, invece tutto è stato tranquillo. Adesso aspettiamo con calma le prossime partite, con fiducia, aspettiamo i recuperi. Giroud ha cominciato ad allenarsi, ma non sarà sicuramente, non credo, sarà titolare contro il Venezia. Di Ibra bisognerà attendere, ma quest'anno sappiamo che saranno molte più le partite in cui dovremo attendere rispetto alle partite che potremo godere della sua presenza in campo. E poi andiamo avanti così. Non parliamo oggi di ingaggi, non parliamo di Cassi, non parliamo dello stesso Tio Hernandez, che secondo me è un po' distratto da queste storie dei contratti, dei rinnovi degli altri. Pensiamo al Milan, pensiamo al Milan che sta facendo bene, che deve stare attento agli infortuni, deve trovare la chiave per evitare tutti questi infortuni, per potersi presentare al meglio e giocare fino in fondo tutte le proprie carte. Anche perché gli altri non mi sembrano dei fenomeni, tutti dei fenomeni. Anche il grande Murigno ha perso, la Lazio ha pareggiato col Cagliari, l'Inter sembra essere forte, però non dimentichiamoci che l'Inter rispetto allo scorso è sicuramente più debole. E nel frattempo il Turco è in panchina. Come in panchina, spesso quell'altro lì, quell'altro ingrato a Parigi, oppure se gioca, prende un gol, prende un gol parabile da chi? Da Paquetà. Un caro saluto a tutti!